ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video di cts siamo qui con il volvo fh500 e oggi è il suo turno allora questo volvo qui è un volvo 500 500 cavalli qua in alto ci sono dei cassetti il crono tachigrafo che serve per i camionisti dietro i sedili qui c'è la cucetta la plancia con l'infotainment e tutto specchietti buoni nel senso che lo specchietto del passeggero di destra è un po indietro quindi ti permette di vedere quella parte che sul reno non c'è che non puoi vedere perché sono molto avanti e basta andiamo ad agganciare oggi una consegna e basta di 40 metri e questo camion dall'esterno come si vede dall'esterno in questo avanti ci sono i tastini per regolare le impostazioni vedete come si vede bene vedete come si vede bene oggi il volvo è disponibile per noi vedete come si vede bene 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 vedete come si sien eccoci qua siamo arrivati stiamo vicino il muro esterno ok perché questo è un semirimorca abbastanza lungo e quindi per le curve bisogna stare un po attenti specialmente in queste tipo di entrate qui di queste aziende abbiamo scaricato e quindi noi ci vediamo di un prossimo video che domani quindi iscrivetevi attivate la campanellina commentate condividete e mettete mi piace ciao alla prossima